Gentili telespettatori, buona giornata. La magistratura potrebbe arrivare direttamente a Giorgia Meloni. Fino ad oggi ci sono stati problemi con i ministri, sottosegretari, viceministri, familiari di persone legate al governo, però i magistrati fino ad oggi non sono mai arrivati a Giorgia Meloni anche perché non hanno mai trovato assolutamente nulla. Però oggi si parla di un qualcosa di particolare. Allora, si parla di proporre in Parlamento un qualcosa, chiedere conto a Giorgia Meloni su un presunto danno erariale dei centri CPR fatti in Albania che sarebbero un danno alle casse dello Stato, sperpero di denaro pubblico. A questo punto, con l'interrogazione parlamentare, che viene fatta e proposta da Elina, che si fa chiamare Elie Schlein in Parlamento, questa proposta potrebbe aprire le porte a diverse cose. Allora, si porta il presunto danno erariale in Parlamento. A quel punto la Corte dei Conti potrebbe aprire un'indagine, proprio su richiesta di una parte della politica, per andare a verificare se c'è stato uno sperpero di denaro pubblico da parte di Meloni, come chiede la Schlein. Poi questo potrebbe aprire la porta anche alla magistratura ordinaria, quindi andare a indagare su Meloni per danno economico al Paese, alla Repubblica. Allora, questo potrebbe essere un modo per arrivare direttamente a Giorgia Meloni. Vedremo quello che succederà. Intanto vi racconto che De Benedetti, vi ricordate De Benedetti, è quell'ingegnere che è stato pertanto contro Berlusconi. Giorgetti gli pignora 6,6 milioni e così l'ingegnere dicono KO in primo e secondo grado nel contenzioso nel 2016 perde oggi quasi 20 milioni di euro. Quindi un anno da dimenticare quello per l'ingegnere De Benedetti, dall'editoria agli immobili, intelligenza artificiale. Lui oggi è l'editore di Il Domani. Deve fare i conti con le perdite colossali. Intanto tramite l'agenzia delle entrate il ministro dell'economia Giorgetti ha pignorato 6,6 milioni di euro a De Benedetti su un conto corrente infragruppo tra le sue due holding di partecipazione Romed e Romed, Romed e Romed International. Si parla di un contenzioso risalente pensate un po' al 2006 e si legge così. L'agenzia delle entrate e riscossioni ha richiesto alla società controllante Romed International S.p.A. il pagamento di euro 6,6 milioni avviando nel corso del 2024 una procedura esecutiva di pignoramento a valore sul finanziamento fruttifero di interessi della stessa erogato a favore della nostra società. La società ha dato incarico ai propri legali per la gestione della procedura esecutiva, la conferma degli amministratori di De Benedetti. Intanto arrivano i nuovi dati dell'agenzia Frontex, gli arrivi nel Mediterraneo centrale sono calati del 64%. Si registra un meno 42% di arrivi complessivi nei primi nove mesi dell'anno in tutta l'Unione Europea e meno 64% nel Mediterraneo centrale. Quindi gli sbarchi sulle coste del Mediterraneo calano del 64%, meno 42% come dicevamo in tutta l'Europa, pari a 166 mila attraversamenti irregolari delle frontiere nell'Unione Europea. Intanto il calo più significativo è da rotte alcaniche meno 79%, meno 47.700 persone e poi meno 64% nel Mediterraneo centrale con 17.000 arrivi prevalentemente da Bangladesh, Siria e Tunisia. Il Mediterraneo orientale invece continua a crescere con un aumento del 15% più 45.600. A settembre è stata la rotta più trafficata dove ci sono stati rilevamenti a 6.750 rispetto ai 5.600 del Mediterraneo centrale. Dalle Canarie sono registrati aumenti più consistenti, 192%, 13.200 e del 100% 30.600 il doppio rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Arrivano da Siria, Mali, Ucraina. Sulla rotta della manica il numero tra gennaio e settembre è aumentato del 2% raggiungendo 47.500. In Italia la percentuale di sbarche è diminuita del 60% rispetto al 2023 e il 30% rispetto al 2022. Grazie ai memorandum sottoscritti con Tunisia ed Egitto. E poi si è parlato anche dei verdetti, dei giudici, delle ONG. Insomma avete visto quello che sta succedendo in questi giorni. Intanto io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Ricordatevi che poi c'è anche Teleitalia Seconda Rete dove trovate video come questi, almeno uno al giorno, poi i video dei due canali Teleitalia e Teleitalia Seconda Rete, li trovate poi condivisi nella pagina di Facebook, più che condivisi caricati nella pagina di Facebook che si chiama proprio Luca Vincitore. E lì poi li potete condividere con chi volete. Grazie a tutti e arrivederci. A presto. Grazie.